ECHO! ECHO! Cosa? Bene, Red, è stato un vero piacere lavorare con te. Qua la zampa! Owen, allontanati subito prima che... Si crede un raptor? Owen, sto delirando! Questo è il quarto sintomo su cinque, se non gli somministriamo l'antidoto prima del quinto! Esatto! Come fai a lavorare con questi tipi? E io non sapevo che la distruzione del Jurassic World facesse parte del piano, ma non preoccuparti. Fuggiremo e manderemo qualcuno a fermarli. Seguimi! Salta, ora! Stanno scappando! Hudson! Vai, manda rinforzi! Troverò il modo di rallentarli! Non lasciarmi, Hudson! No! Hudson! Che vedi! Oh, la mia bibita! Accidenti, accidenti, accidenti! Lasciala andare! Quando avrà finalmente raggiunto il Jurassic World per dare l'allarme, ormai sarà già trappo tardi! Spero che non li tighino su chi debba mangiarci per prima! Ok, grazie. Siamo tutti amici noi, vero? Owen, lo so che sei dentro, so che riesci a sentirmi, resisti! Io ti piaccio, ricordi, io ti piaccio davvero tanto, e a me... tu piaci tanto! Sì! No! Ok, pensiamo ad altro. Che ne pensate, ragazze? Sapete che sono vostra amica e che sono amica di Owen, quindi se vuole farmi del male, vuol dire che forse lui non sta tanto bene, giusto? Dobbiamo aiutare Owen! Esatto! Devo scegliere quello giusto, ammesso che ce ne sia uno. Oh no, non c'è tempo! Devo scegliere! Questa è una bella sfumatura di blu? Oh, Owen! Ah, patatine fritte! No! Cosa? Possiamo! Non so... Non so insuermite! Non so nervous quando introdediamo la funzione di oggi pubblica! Buon